La Presidente Marvelli dopo due anni torna al Salone Internazionale del Bagno, cosa si aspetta da questa settimana? Cosa mi aspetto innanzitutto? Tanti visitatori naturalmente che possano venire ad apprezzare il grandissimo sforzo che gli imprenditori stanno facendo in questo momento difficile per il mercato ma con grande volontà e grande innovazione quindi evidentemente potranno i visitatori cogliere quella che è veramente la grande capacità della nostra struttura produttiva italiana. Questo è anche un anno davvero importante per Assubagno perché fate i 10 anni. Sì, è vero, la nostra associazione compie 10 anni quindi una data importante e noi siamo felici di aver costituito questo gruppo che è un gruppo molto unito, molto forte, dinamico e che ha come compito quello naturalmente di riuscire a divulgare ulteriormente quella che è la cultura dell'arredamento bagno e insieme accompagnarci nel cammino evidentemente anche di internazionalizzazione che forse è la parte e direi l'indirizzo più importante che le nostre aziende oggi devono cercare di rafforzare.